Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi volevo affrontare un argomento in cui sarò meno scientifico se vogliamo però sono delle osservazioni che ho fatto da un punto di vista soprattutto empirico sulla base di questo mio processo di rientro in palestra quindi questa fase in cui sono tornato ad allenarmi, ho ricominciato normalmente e ci sono alcune cose, tante riflessioni in realtà, in generale tante ne ho scritte su Renownation, le condivido sulle storie su Instagram però per questo nello specifico volevo fare un video proprio in merito Allora la riflessione di base è il quantitativo calorico che io adesso in questo momento sto gestendo e per gestendo intendo che se salissi in maniera diciamo importante da qui inizierai ad ingrassare, quindi non riesco a gestire più calorie di queste che sto gestendo adesso e con le calorie che ho attualmente riesco a mantenere il peso, riesco ad essere stabile, riprendere i volumi eccetera eccetera e questo quantitativo si aggira poco sopra le 3000 calorie come voi sapete se mi seguite, in questa fase di bulk sono arrivato a superare i 5500 stare stabile verso le 6000 calorie, quindi dopo la gara sono salito da 3000 ho continuato ad aumentare gradualmente fino a quasi 6000 calorie sono stato stabile più o meno là poi ho fatto un mini cut sulle 4000 calorie in cui ho perso un totale di 4 kg durante questo mini cut sempre rimanendo più o meno a 4000 calorie sapete che non contro i macros in maniera maniacale, quindi anche le calorie sono logicamente stimate possono essere 4100, 4200, non lo so, qualcosa del genere comunque da un conto rapido con i programmi e le applicazioni uscivano più o meno 4000 calorie attualmente che cosa è successo? quando sono tornato in palestra ho ricominciato effettivamente ad allenarmi e ho ripreso tranquillamente tutti i carichi perché questo? magari ci dedicherò un video a pazzi, devo dedicarci logicamente un video sostanzialmente nella prima fase, nella fase precedente all'operazione quindi in vista dell'operazione quello che ho fatto è aumentare molto la frequenza di allenamento e il volume per arrivare velocemente ad un overreaching overreaching che ho raggiunto qualche giorno prima dell'operazione quindi ho tirato avanti un po', ho tirato botta in qualche modo in modo che nel momento in cui mi sono operato quelle settimane sono state delle settimane in cui effettivamente il mio corpo non ne voleva sapere di tornare in palestra nel senso che avevo raggiunto l'overreaching avevo bisogno di scaricare quindi mi sono preso un tot di settimane di recupero passivo proprio in delode completo e c'è stata una bella sovracompensazione in generale per questo diciamo che è stato funzionale questo periodo di scarico ovviamente non tutte le sei settimane di stop completo però bene o male avendo raggiunto l'overreaching prima ho tamponato quelli che sono i danni di uno scarico completo che si fa random di sei settimane quindi da questo punto di vista sono tornato in palestra che nel giro di una settimana avevo recuperato benissimo tutti i carichi ma l'unica problematica che ho avuto che effettivamente l'avevo sottovalutata era la gestione mentale dell'effort dell'intensità ossia non riuscivo a spingermi realmente come mi spingevo prima ora questo è logicamente scontato se vogliamo perché è un'abilità che deve essere allenata nel momento in cui ti fermi per sei settimane viene deallenata quindi come i carichi come il resto logicamente è un qualcosa che va a perdere me lo aspettavo ma non così tanto nel senso che mi sono sentito proprio una pippa al sugo veramente magari con un carico con cui avevo 15 ripetizioni sulla pressa, su grandi compound mi fermavo a 12 perché proprio psicologicamente appena rallentava la serie la fatica, il dolore la pressione intratoracica tanti fattori che ti portano a soffrire che normalmente mi vedevano fare un overcome cioè che riuscivo a gestire molto bene anzi andavo a ricercarli non riuscivo più a gestirli anche semplicemente per un discorso di sopportazione del dolore quindi una pippa al sugo da questo punto di vista fatto sta che quelle poche ripetizioni in meno sono effettivamente l'unica grande differenza che ho visto rispetto a prima però non è un grande problema perché sto in una fase di recupero quindi si tratta sempre di ottenere il massimo dal minimo quindi non mi serve avere un'intensità altissima perché non la posso gestire in questo momento ma logicamente devo tornare devo riallenarmi per arrivare a gestirla e già questo stimolo che sto ottenendo è uno stimolo ipertrofico molto molto buono quindi il corpo sta rispondendo a meraviglia il discorso che mi ha lasciato un po' perplesso tra virgolette ma mi aspettavo è questo discorso della mole calorica che riesco a gestire nel senso che con tutto che mi sono andato a depletare ho recuperato sensibilità insulinica in questo periodo in queste 6 settimane in cui ho mangiato molto meno con tutto che mi alleno con un filo di volume in più in realtà perché mi alleno tra virgolette in buffer il cui il volume è leggermente più alto effettivamente consumo molte meno calorie cioè non ho proprio neanche quella fame per cui qui mi ricollego a molti discorsi che sono stati fatti in precedenti video, nei commenti e tutto il resto sul fatto che l'allenamento quando calcoliamo la nostra spesa energetica spesa calorica soprattutto per fasi di bulk eccetera non dobbiamo considerare l'allenamento come soltanto un fattore di chilo joule cioè io calcolo i chilo joule calcolo il lavoro quindi le chilocalorie che vado a consumare effettivamente per tot e ripetizioni con tot carico quindi tot spostamento per tot carico e c'ho una risultante che sono le calorie che io ho speso e quindi devo addizionare a quelle che sono le calorie di me un giorno off magari un giorno in cui non mi alleno non è assolutamente così cioè il come io mi alleno effettivamente impatta tantissimo e da questo punto di vista di nuovo non ne voglio fare un video troppo scientifico perché non c'ho delle osservazioni scientifiche da porre a base però voglio buttarvi un po' di ragionamenti che mi vengono in mente perché effettivamente è una cosa che io ho sempre visto anche in tantissimi atleti quando mi sono arrivati atleti che avevano un background molto buono che sollevavano tanto che erano abituati a lavorare molto molto bene con ottime alzate e gestire tanto volume la cosa che ho visto sempre è che andando a spingere tanto sull'intensità che era la variabile per loro carente la richiesta energetica schizzava cioè andava a essere veramente veramente tanto questi atleti si trovavano a dover mangiare tanto tanto di più semplicemente spingendo di più sull'intensità sull'effort quindi la domanda è perché? come possono queste poche ripetizioni in più che facciamo superando la soglia di dolore e raggiungendo gradi di effort di intensità di cedimento molto più alti alzare così tanto la nostra richiesta energetica e in particolare in questo caso specifico la cosa che ho visto la richiesta glucidica mi vengono in mente alcune ragioni la prima ragione è quella logicamente minima veramente veramente minima ma della risposta adattativa nel senso che logicamente nel momento in cui io vado a spingere l'intensità a spingere l'accedimento anche la risposta e la richiesta ipertrofica del muscolo quindi l'adattamento ipertrofico del muscolo è maggiore perché però il muscolo cresce di più quindi c'è una minima si parla di qualche grammo di proteine in più richieste però di base il muscolo chiama anche glicogeno chiama anche acqua in generale quindi ci sono delle componenti chiama anche processi energetici per costruire effettivamente più muscolo quindi seppur minima e parliamo veramente veramente di poco però comunque il fatto che creo più ipertrofia spingendomi al cedimento anche con un minor volume mi porta ad avere bisogno di più calorie ok quindi questo è un primo fattore il secondo frattore è la sovracompensazione di glicogeno nel senso che da quello che ho potuto vedere il fatto di spingersi di più nelle serie porta sia un effetto di depletione maggiore quindi il muscolo è più depletato ma minimamente di nuovo non sono quelle ripetizioni in più che depletano tantissimo di più il muscolo però aumentando la probabilmente la risposta recettoriale a livello di glute 4 membrana perché aumentando l'intensità correlata all'attivazione di glute 4 membrana a livello cellulare che cos'è che succede? che il muscolo va a richiedere più glicogeno del normale quindi c'è questa sovracompensazione ossia io diminuisco le scorte di glicogeno muscolari però nel momento in cui vado a ridare più calorie il muscolo non è che compensa ma sovracompensa questa sovracompensazione è proporzionale all'intensità dell'allenamento quindi più mi alleno intensamente più il muscolo sovracompenserà quindi cercherà di fare più spazio possibile per il glicogeno perché logicamente dovrà far fronte a performance molto più intense da questo punto di vista e il profilo recettoriale sarà ideale per schiaffare più glucosio sotto forma di glicogeno all'interno del muscolo quindi logicamente una maggior frazione delle calorie che consumo di carboidrati che consumo vanno a essere subito stoccate come storage di glicogeno muscolare quindi da questo punto di vista logicamente la glicemia è tendenzialmente più bassa a parità di carboidrati che mangio e quindi avrò più fame e avrò più bisogno di energia terzo fattore è il fatto che spingendosi a intensità elevate e riuscendo a sbloccare mentalmente questi gradi di effort anche l'aumento di performance è maggiore ossia mi spingo al massimo mi spingo al massimo mentalmente riesco a spingermi al massimo il mio corpo sovracompensa quindi la volta dopo mentalmente riesco ad andare ancora oltre il corpo sovracompensa la volta dopo mentalmente riesco ad andare oltre ossia se io ragiono su tabelle numeri cose che leggo cose che vado a scrivere a calcolare non ho quell'assetto mentale che mi porta a fare ogni volta di più ok? quindi anche la progressione da un punto di vista calorica la progressione di intensità eccetera è in qualche modo attenuata infatti una delle critiche maggiori che faccio a tutti questi schemi che derivano dal PL e che vengono utilizzate nel bodybuilding è che l'errore principale è che nel bodybuilding non si crea questa richiesta di adattamento perché? perché quello che faccio l'ultimo giorno è una cosa che avrei potuto fare anche il primo giorno del mio meso ciclo ok? semplicemente le faccio in maniera diversa nel PL perché sono utili? perché c'è uno schema di lavoro sull'alzata non sul muscolo ok? non sull'intensità non vado a creare una risposta adattativa ipertrofica ma devo lavorare l'alzata quindi ci sono tanti fattori che fanno sì che queste progressioni hanno senso nel bodybuilding non hanno assolutamente senso mentre invece con questo atteggiamento con questo mindset mentale l'aumento di performance è graduale e quindi da qua io ho anche visto che rispetto ad adesso è molto più importante l'adattamento di performance che avevo spingendomi al massimo che è paradossale perché dici Ludo cioè comunque stai c'hai molto più margine perché non riesci a bruciare le tappe perché in realtà l'assetto mentale non è quello cioè non ho la testa ancora in grado di sopportare quel superamento del limite quindi in qualche modo mi frena ma ci tornerò tornerò più forte di prima correlato all'aumento di performance è anche il recupero ora qua è molto complessa come discorso quando si tende ad andare oltre a aumentare l'intensità ci sono due possibili scenari o non siamo in grado di agganciarci al nostro corpo e quindi ci bruciamo subito che è la cosa che avviene quasi sempre per tutte le persone che normalmente portano poi vanno poi ad allenarsi in buffer perché non riescono a gestire l'alta intensità perché non riescono a stare in sintonia col corpo e tendono a fare veramente troppo in termini soprattutto di volume quindi quando siamo in sintonia col corpo lo scenario è diverso per cui mi brucio e logicamente non riesco a recuperare quindi è una strategia che su di me non funziona l'altro scenario è quello in cui siamo in sintonia con il nostro corpo abbiamo creato una giusta intimità quindi non ci facciamo paranoie su quante calorie devo rispettare per quella formula quanto volume devo fare perché l'ha detto quell'influencer eccetera quello divulgatore tutto quel roscio che vedete su youtube eccetera ma sento effettivamente quello di cui il mio corpo ha bisogno vado oltre il limite in questo caso che cosa succede che il recupero ha massimizzato che è una cosa che non ritrovo ad esempio adesso che è paradossale io faccio un po' di meno in termini di intensità e durante la giornata il recupero non è così veloce semplicemente perché il mio corpo da una parte non ne ha bisogno non gli vado a dare quelle stecche norali che mi portavano normalmente a mi alleno mangio metabolizzo subito molto velocemente dormo questa cosa non riesco più a dormire molto bene il pomeriggio ok e quindi di base sono un po' più stanco durante la giornata che è paradossale invece là mi arriva quella stecca neurale dormivo quel crollo adrenalinico dormivo recuperavo ed ero tipo una molla un grillo quindi recuperavo molto più veloce paradossalmente quando mi spingevo di più quindi il fatto di non spingermi così tanto mi mette una specie di limbo in cui non riesco paradossalmente a recuperare così bene soprattutto da un punto di vista mentale logicamente un peggior recupero vuol dire anche un'incapacità di gestire bene i nutrienti è come una macchina che non funziona bene quando non funziona bene non riesce neanche a gestire bene la benzina in qualche modo ok mentre se la macchina funziona va a mille consuma un sacco di benzina che logicamente da un punto di vista evoluzionistico è uno svantaggio tremendo però facciamo un po' di building e queste sono semplicemente osservazioni ed è il motivo per cui quello che vedete è che il limite che arriva a cui arriva un atleta che si allena bene abbiamo parlato col podcast con Marco tante volte che stava in questa fase è quello di non riuscire a mangiare abbastanza rispetto a quanto il corpo realmente stava chiedendo per sopportare supportare la crescita ok ci ho detto l'ultimo fattore che è quello secondo me più importante ossia l'epoque l'epoque il debito di ossigeno oppure la risposta metabolica pura ora quello che massimizza di più il nostro consumo nell'arco della giornata un fattore che impatta tantissimo è proprio l'intensità con cui noi ci alleniamo cioè se io faccio una passeggiata questo non impatta quanto io spendo a livello calorico nelle altre ore se io corso scorso se io corro questo ha un impatto su quello che spendo poco dopo se io faccio un allenamento molto intenso per tanto tempo questo impatta tantissimo quanto spendo anche nelle altre ore della giornata e quello che ho visto è proprio questo che fare quelle ripetizioni in più spingere di più andare oltre il limite lo sento proprio a livello di digestione lo sento proprio a livello di fame di appetito di necessità di cibo di glicemia che normalmente se mancavo qualche pasto quando stavo a 5500 sentivo proprio che andavo un po' in ipoglicemia ecco e lo vedevo col glucometro perché sapete che utilizzo il glucometro ecco spingere tanto arrivare oltre il limite aumenta drasticamente quella che è la richiesta metabolica nel corso della giornata la richiesta energetica nel corso della giornata per cui questo video per dire cosa non che è figo allenarsi intensamente eccetera però voglio cercare di farti capire due aspetti il primo aspetto è che quando forziamo il nostro corpo alla crescita muscolare dobbiamo assicurarci che tutta la macchina sia perfettamente funzionante quindi ci troviamo in situazioni in cui anche la richiesta di cibo banalmente meccanica di digestione è sopra fisiologica per cui sistema gastrointestinale la cura del nostro processo gastrointestinale della salute della microflora eccetera è fondamentale deve essere tutto ben oliato per accogliere tanto cibo cibo che normalmente magari alcuni di noi io stesso non mi accorgevo di quanto era forzatamente di più di quanto normalmente mangerei in secondo luogo il discorso che il motivo per cui gli atleti di alto livello comunque dicevo in molti video in fasi di bulk si arriva a mangiare veramente veramente tanto è proprio il fatto che in allenamento c'è un superamento del limite un andare oltre che porta a una serie a cascata di effetti metabolici che impattano tantissimo su questi processi quindi logicamente quando ci approcciamo una fase di bulk di costruzione eccetera questi sono tutti i segnali che noi dobbiamo andare a considerare nel momento in cui mettiamo in gioco e anche una fase di cut ecco questa è una cosa importante anche la fase di cut e qua ci sono dei fattori che logicamente giocano a nostro favore ossia il fatto di creare molta più richiesta di andare oltre il limite in fase di cut ci porta a gestire molto meglio calorie elevate quindi avere un aspetto molto più pieno a parità di bf che scende in ultimo sul palco ok quindi non sottovalutate l'impatto che ha che hanno quelle ultime ripetizioni quelle ripetizioni oltre il limite che non vuol dire cittare attenzione oltre il limite mentale è diverso quindi con un movimento sempre fluido pulito preciso però quelle ripetizioni che veramente ti portano allo stremo non sottovalutate non assimilato semplicemente ai kilojoule che si ottengono calcolando il carico per spostamento che andiamo a consumare ragazzi questo è tutto per questo video e ci terrei ad avere delle vostre opinioni qua sotto anche logicamente discordanti in modo che instauriamo un bel confronto ripeto questo è quello che ho visto su di me su tantissimi atleti e adesso l'ho vissuto in prima persona ma giustifica in parte tutto quello che vedo su atleti di altissimo livello molto più alto del mio quindi non so qualche riflessione anche da parte vostra e con questo io vi rimando al prossimo video